Ciao a tutti subito, incominciamo benissimo con il caracare 4x4 veloci supero, dai guarda lì qua che iniziano già a trollarsi occhio, scusami chi era? non lo so piano piano bello, bello, molto bello guardate gli ufo, le rocce via aerei, ci stava veramente un sacco molto bello come fosse face comunque chi è che sta in pennacqua dai eh secondi eh ma come che succede? mannaggia oh piano piano passate ma non trollate a me mannaggia voi eh andiamo, 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 andiamo scusate ma che cosa recupera si potentissimo il caracare ok sesta posizione andiamo con questo furgoncino qua vai 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 veloce lentissimo ok dai quinti qualcuno si è già trollato vediamo se c'è appena un po' più di boost è veramente lento eh eeeh che sta ancora indietro mannaggia si da che li raggiungiamo guardate guardate oh ma quanto boost ho preso io occhio paro di fumi che ti recupero eh guardate guardate che boost non so come ho fatto eh vado normalissimo come vanno gli altri non mi chiedete niente no adesso no adesso boost ha smesso ut un mega recupero adesso non più vabbè dai dai siamo quasi arrivati veloce veloce che poi gli altri si girano si trollano arriva già qualcuno dai che ci passiamo oh caspita mi dovevo fare leggermente più in là oh chi mi voleva trollare chi è che mi voleva trollare mannaggia andiamo così perfetto veloce ok si è trollato secondi qui ho anche il primo si è trollato ah siamo belli i primi adesso io il turbo lo userei poco qua eh perché ho paura di combinare pasticci io vado tranquillo normale ok siamo all'ultimo ci siamo autorampa cerchiamo di non trollare nessuno ok piano no mannaggia ho visto all'ultimo siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati perfetto così easy sport veloci molto bello face to face no mannaggia e ricominciamo seconda posizione occhio piano piano perfetto ci siamo rimessi andiamo veloci andiamo veloci e anche perco largo quindi per trollarsi bisogna proprio fare apposta ok ok dai eh ci siamo quasi speriamo dov'è che non si troll si trollerà si trollerà veloce passa in mezzo uh siiii mi la son cavato all'ultimo perfetto così rigirati veloce veloce primi trollato occhio 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 scusami mi spingete non mi spingete per troller sui almeno sulla destra eh veloce occhio sta arrivando qualcuno si piano easy che scatola di prima davanti un altro salite di là non state di qua eh ok metterci po' più di qua ole ci siamo ci siamo pochi metri al check eccoci qua dai che siamo in salvo perfetto cosa abbiamo BMX aiuto ah no moto 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 scusatemi veloce 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 tutti i ducati ecco ti voglio i ducati no mannaggia a me corri 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 guardalo questo andate proprio di qua guardali 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 mannaggia loro rocce veloce se spawna non posso fredato io dai eccoci 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 perfetto macchina qua sarà qua sarà vigilante e da che per la vigilante vale la stessa tattica della scrumjet usare poco il turbo io proprio lo uso pochissimo preferisco altrimenti poi ho pasticci occhio occhio sono io in centro mannaggia devo andare di qua ok piano stai cominciando a muoversi tutta la vigilante no no scusami è cascato è cascato al suino mannaggia è in contromano lui io come in azione stavo andando verso destra fatto cascare mannaggia gli vedo tutti belli educati eh parte qualcuno però ci sta dai eccoci cosa abbiamo cosa abbiamo questa questa è la neo se non mi sbaglio andiamo no mannaggia dai eh dai eh mannaggia prima che mi ha fatto un ribalzo strano e mi ha fatto andare fuori ok cosa abbiamo autorampa di nuovo cerco cerco di non trollare la gente piano ok piano ci trolliamo eh molto piano se ci tocchiamo quell'autorampa ci trolliamo di brutto occhio qua guardate quello dai eh dai eh dai eh non manca tanto ci siamo quasi veloce occhio non trollarci occhio che faceva quello ribaltato lì quello mi sbaglio quello che mi ha trollato prima quello col camion rampa ok di nuovo furgone si furgone fuoristrada ah sui che te suoni andiamo 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 questo 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 vuole trollar me e non mi ha trollato vai 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 attenzione attenzione che c'è sto qua con l'autorampa guardalo sono due sono due che vogliono trollarmi magari anche tre arrivano di nuovo l'unica è andare piano e fagli la finta tipo così vedete loro sti qua non sono non ragionano loro lo fanno così guardali 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 ci siamo auto ramp si chiama ramp se le becco se le becco li trollo veloce occhio piano 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 non voglio trollare alcuni suini facciamo tranquilli dai e qui sta arrivando uno sta arrivando uno perfetto spettacolare spettacolare questo face to face occhio bravi bravi no no che che viene di qua mannaggia dai manca solo più questa macchina c'è check si check il traguardo veloce dai 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 che ci aspetta il traguardo veloci veloci ultra veloci manca poco finalmente è finito il face to face anche se è un po' trolloso per colpa di queste persone qua che li devono venire a trollare guardali 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 ovvio ovvio siamo quasi arriva uno che mi metto di qua ok no no c'è un due camion rampa ok guarda questo guarda questo volevi volevi e invece no finco e dai bellissimo face to face quindi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale commentate seguitemi su instagram e ci vediamo al prossimo video bella bella Grazie a tutti.